Cittadini, Presidente, Consiglieri, una buona serata e grazie per l'invito che comunque non mi è mai stato recapitato. So, grazie ad amici, di essere iscritto in questa lista, ma a casa mia non ho ricevuto mai niente. Io questa sera avrei voluto guardare negli occhi il mio sindaco per dirgli alcune cose. Innanzitutto che mi fa piacere che lui si sia ricreduto sulla mia persona, ritenendomi non come mi riteneva prima, e cioè strumentalizzato politicamente da qualcuno. Io però, tuttavia, devo dire che non mi sono ricreduto ancora su quella sua, perché ancora lui mi deve risolvere un problema che da due anni persiste nel nostro quartiere. Io stasera sinceramente mi sento preso in giro, perché stiamo parlando di cose che avremmo dovuto cominciare a parlare due anni or sono. Sono passati due anni ed ancora siamo qua a discutere sempre delle stesse e medesime cose. Io, per chi non mi conosce, sono il Presidente del Comitato Civico per il Trasmanzaro. Sono un cittadino, non sono un consigliere comunale, non sono un amministratore, non ho percepito mai paga e soldi pubblici. Sono un cittadino che cerca di difendere i propri diritti. Io mi sento, nei riguardi dell'acqua, oggi un utente, pago un canone idrico e vorrei che a casa mia arrivasse acqua conforme alla normativa europea. Oggi non mi arriva così. Io volevo donare un cappellino al Sindaco, magari poi glielo porterà qualcuno, perché faccio parte pure di legambiente Mazzara, visto le ultime, le recenti dichiarazioni che ha fatto. La scelta di erogare acqua, dice il Sindaco, a giorni alterni. Giorni alterni quali? Lunedì e venerdì, quando qualcuno riesce a prenderla. Quali giorni alterni? La scelta di erogare acqua a giorni alterni è volta ad abituare i cittadini a fare un uso responsabile dell'acqua e ad evitare gli sprechi. E allora io gli rispondo con una comunicazione fatta da un cittadino, Antonino Ingrande. Va bene evitare gli sprechi, va bene educare i cittadini ad un uso più responsabile, ma privarli di tutto punto e senza alcun preavviso della più importante e vitale risorsa. Questo proprio noi cittadini non lo accettiamo. L'educazione civica deve prescindere da qualunque azione intimidatoria e deve essere promossa con strumenti idonei di sensibilizzazione. Ecco quello che noi del Comitato pensiamo. Quindi non la pensiamo come il Sindaco. Oggi però io non voglio né criminalizzare questo Sindaco, nemmeno puntargli il dito contro. L'ho già fatto per due anni, ne sono pure stufo. Io oggi non vorrei che il Sindaco passasse per Francesco Ferruzzi e io per Maramaldo e poi sentirmi dire la frase vile, tu uccidi un uomo morto. Il Sindaco ha finito, se ne sta andando, molto probabilmente con atto di coraggio non si ricandiderà più. Due anni sono questo Comitato è andato in Prefettura e ha chiesto un incontro davanti all'orola Prefetto Finazzo con questa amministrazione comunale, con il Sindaco, con i tecnici. Noi avevamo chiesto dall'inizio già a priori una cosa, commissariateci il Sindaco per quanto riguarda la vicenda acqua perché non lo riteniamo in grado di risolvere questa enormità di problema che abbiamo. Il Prefetto allora ci disse che non lo posso fare, la Sicilia è una regione a statuto autonomo, lo può fare solo il Presidente della regione. C'era però un altro organo che poteva farlo ed eravate voi, lo potevate sfiduciare e lo mandavate a casa perché c'erano allora dei consiglieri della maggioranza che non erano d'accordo con la strada intrapresa da questo Sindaco e da questa amministrazione. Eppure l'avete tenuto qua due anni a governare e noi dopo due anni siamo certi solo di una cosa, che i cittadini del Trasmazzaro siamo due anni avanti rispetto al resto della città nell'essere indossicati. Questa è l'unica cosa che c'è certa oggi, l'unica cosa della quale noi dovremmo parlare. Nel frattempo in questo lasso di tempo è arrivata un'ordinanza sindacale che limitava gli utilizzi dell'acqua che limitava gli utilizzi dell'acqua, autobotti che lasciavano l'acqua ai commercianti perché non la potevano più utilizzare. Poi arriva la deroga e l'acqua improvvisamente ridiventa potabile e la possiamo riutilizzare. Intanto passa il tempo. Poi cosa succede? I cittadini del Trasmazzaro scoprono nel giugno scorso che un pozzo arriva a 161 di nitrati, un pozzo di Ramisena. Io vado in tv, lo vado ad annunciare, il pozzo viene immediatamente chiuso, l'allora vice sindaco va in tv e dice io garantisco che dal primo luglio noi eroghiamo acqua a 60 milligrammi litri di nitrati. Miracolo! Questa amministrazione comunale abbiamo scoperto che fa i miracoli.